Giarre, giarri in siciliano, i giari nel dialetto locale, è un comune della città metropolitana di Catania, i cui abitanti sono detti giarresi in italiano e giarroti in siciliano. La conurbazione si estende dal mare fino ai piedi del vulcano, tra il nome dall'uso geonomastico del siciliano giarra che significa vaso d'acqua, giara, e dal precedente arabo garra che ha lo stesso significato. L'abitato quindi nel nome ricorda le giare, nelle quali venivano conservate le decime che dovevano essere consegnate al vescovo di Catania, barone di Mascali. La piazza del Duomo rappresenta il cuore pulsante del centro storico di Giarre. Nei primi anni del 1900 il corpo bandistico cittadino, abbastanza dinomato, si esibiva qui da un palco che però venne fatto demolire nel 1936 dal commissario al comune Rosario Brancati, padre dello scrittore e sceneggiatore Vitaliano Brancati, per permettere le adunate oceaniche fasciste. Tra l'altro qui, negli anni 1920, venivano giocate le prime partite amatoriali di calcio della città. La tradizione narra che in prossimità di Giarre, nell'odierna frazione di Santa Maria alla strada, il gran conte Ruggero, mentre andava contro un esercito saraceno, invocò l'aiuto della Madonna e fece voto, in caso di vittoria, di erigere un santuario ed un pozzo. Così, ottenuta la vittoria, il conte mantenne il vuoto ed edificò sia il santuario che una cisterna. Da allora il pozzo fu chiamato di Ruggero ed il santuario è meta di pellegrinaggi ancora oggi. Di questa bella leggenda non vi è alcuna conferma storica ed è possibile che la tradizione sia da collegarsi alla intensa attività di riconversione al cristianesimo avvenuta nel primo periodo normanno in Sicilia nel 1000. All'ingresso nord di Giarre, a Santa Maria alla strada, c'è la significativa presenza del pozzo di Ruggero I, risalente all'anno 1081, attivo al santuario della Madonna della strada. E altre tracce farebbero pensare, nello stesso periodo, ad un discreto nucleo abitativo presente in loco. È, opinione diffusa, che sull'odierno territorio di Giarre, in epoca antichissima, sorgesse la città di Callipolis, fondata dai Calcidesi nel 700 a.C. e distrutta nel 403 a.C. ad opera di Dionisio I, mentre l'attuale Giarre nacque nel 1500 come borgata in seno alla contea di Mascali e grazie alle concessioni enfiteutiche, cioè in affitto, di terreni coltivabili ricavati dal disboscamento e crebbe gradualmente e venne popolata principalmente da Acesi e Messinesi. Giarre conobbe quindi un rapido sviluppo grazie allo spostamento a valle dell'antica romana via Consolare, la via Valeria, avvenuto a seguito del terremoto della Val di Noto del 1693, divenendo punto di passaggio obbligato per i viaggiatori che si spostavano tra Catania e Messina.